Sicuramente l'impatto con il mister è stato positivo, ovviamente in questi giorni è stata fatta una buona molle di lavoro, a distanze lunghe come è giusto che sia, la squadra sta che le sta andando bene, il gruppo è giovane, con qualche vecchietto tra cui il sottoscritto, insomma si sta lavorando bene, ci sono tutti i presupposti per far sì che la stagione sia positiva. Tu pensi che questa sia una squadra che non possa, come possiamo tutti insieme a Palermo, lottare sino all'ultimo per tornare in Serie A? Mi sento fa, ho fatto un'intervista, parlare adesso di obiettivi mi sembra un pochino presto, illudere la gente non mi piace, sicuramente io e i miei compagni faremo un campionato importante, dopo alla fine se dovesse essere di vertice saremo tutti contenti, da nostra parte ce la metteremo tutta e anche di più perché gli ultimi sei mesi di campionato appena trascorsi sono stati sotto gli occhi di tutti, abbiamo poco da dire, quindi abbiamo tutta la voglia di rimetterci in gioco e di fare bene. Quindi avete in mattina un grande allenatore, non è utile stare qui e girarci intorno al lusso per la serie che è chiara, insomma, che sta insegnando il calcio, questo è il fattore, lo chiamo il fattore E, il fattore Marino, quando può fare la differenza, insomma, perché questo è chiaro che le squadre non possiamo giocare un calcio in un certo livello sotto con certi codici, no? Sì, la prima settimana di lavoro è stata proprio improntata su questo, sulle sue idee e noi cerchiamo di metterle in pratica, è chiaro che in una settimana non si può fare tutto e anche oggi ovviamente la stanchezza ha fatto la sua parte, però dalla nostra, insomma, cerchiamo di seguirlo, le sue idee ovviamente sono offensive e si vede, i tre attaccanti lo dimostrano, gli uomini adatti per fare questo tipo di gioco, secondo me ci sono, è chiaro che vanno sistemate alcune situazioni personali, insomma, di mercato, speriamo che arrivi in fretta questo 31 agosto, in modo da avere, 2 settembre, da avere appunto la rosa al completo, in modo che chi c'è, c'è e così da veramente da chiudere tutto e puntare al campionato, insomma. Un'altra domanda da parte mia, tu che confidenza hai in stato lungo la carriera con 4-3-3, insomma? Ma, per quanto mi riguarda, la cosa importante è i quattro dietro, insomma, se mi togli un esterno di qua e di là ho difficoltà, quindi dal punto di vista dei quattro il mister non fa sconti, appunto, si lavora sui quattro, poi quello che viene davanti, i sistemi di gioco onestamente sono sempre gli stessi, perché poi i movimenti, una volta che uno ha la palla, davanti se non c'è movimento, che sia 4-3-3, 4-4-2, 4-5-1, siamo morti, insomma. Quindi, ripeto, appunto, dobbiamo seguire il mister che ha tante idee, non dobbiamo certo inseguire chissà quale sogno di calcio champagne, noi dobbiamo essere pratici e quando c'è da fare gol bisogna fare gol, e quando c'è da non prendere bisogna non prendere, quindi essere estremamente pratici, appunto, e fare quello che serve. Non si può vantare a vincere giocando bene? Ma il mister, il tuo giorno parlando, l'ha detto, io la penso come lui, ho visto raramente giocare male e vincere, può succedere sicuramente, però la lunga non paga, paga sicuramente giocare bene e i risultati arrivano di conseguenza. Oscar, una domanda? Sì, no, velocissima, un giudizio su, in questi pochi giorni che ti sei allenato, su Parigi, che conosciamo poco, perché sono in televisione, che te ne parlo? Ma, secondo me è un gran bel giocatore, come tutti i stranieri purtroppo un pochino la lingua lo limita, perché ovviamente anche le semplici parole solo, uomo, sali, scappa, insomma, incidono, però, insomma, oggi è bello, il livello dell'avversario è abbastanza basso, però, secondo me, si vedono che ha dei grossi margini di miglioramento. Orlando Tanti Luciano, come ti trovi a livello personale in un gruppo così giovane, perché, insomma, fino a quando hai fatto la A, quindi fino a pochi mesi fa, i calciatori della tua esperienza nello scoledore ce ne erano tanti, anche qui a Pescara, come ti trovi in questa squadra così giovane, in cui hai questo ruolo di riferimento, la chioccia, e che spirito sta nascendo in queste vittimazioni di tiro? Ma, da parte della squadra c'è grande motivazione, come dicevo prima, grande motivazione di far bene, appunto, perché ci aspetta un campionato dove vogliamo essere protagonisti a tutti i costi, speriamo appunto di riuscirci. Insomma, da parte mia metto a disposizione la mia esperienza, questi nanetti mi fanno disperare, vanno a 3.000, quindi, insomma, cerchiamo di tenere un pochino botta, però, insomma, vanno inquadrati, ma vanno anche lasciati liberi di esprimere tutte le loro qualità, che sono tante. E speri, in corso d'opera, di ritrovare, che sta facendo Beppe Sculli? Beppe Sculli, insomma, non lo scopo certo io, so che da parte sua c'è grande volontà di ritornare, so che anche se ne sta parlando, non è semplice, perché bisogna trattare con la Lazio, insomma, conosciamo le situazioni, io conosco bene, quindi io me lo auguro che possa tornare, perché comunque un giocatore di quel livello, di quell'esperienza, può sicuramente essere utile. Beppe Sculli Beppe Sculli Beppe Sculli Beppe Sculli